Teatro Comunale di Bologna, siamo all'ufficio produzione con Giuliano responsabile, uno dei due responsabili dell'ufficio produzione. Giuliano, di che cosa si occupa un ufficio di produzione nel teatro d'opera? Diciamo che ha la manipolazione nello spazio del tempo. So che a voi registi piace questa definizione. Perché ne avete sempre bisogno di spazio e di tempo. E quindi sulla base dello spazio e del tempo si trovano le prove, le prove che vi servono per mettere in piedi le vostre pagliacciate. Diciamo così, viene creato un calendario, lo specifico diciamo della tua produzione, italiani in angeli per dire, viene creato questo calendario con tutte le serie di prove, dalla prima, quindi si va indietro, alla prova generale, gli assiemi, l'antepiano, le prove di regia, le prove di lettura. Che cos'è un antepiano Giuliano? Un antepiano è, diciamo così, l'ultima e forse anche unica delle volte. Possibilità che ha il regista di vedere lo spettacolo, con tutte le sue deficienze, attraverso, diciamo così, dall'inizio alla fine, con i costumi, le parrucche, il trucco. E i movimenti tecnici. I movimenti tecnici. Però al pianoforte, diciamo, è come se fosse, diciamo così, una recita da capo a fondo, con tutto quello che è stato fatto, che viene messo insieme per prima volta. Deve essere molto complesso comunque fare un piano di produzione per un'intera stagione lirica. Guardi, non glielo posso dire la difficoltà. Certo, perché comunque fare il programma di un anno, di una stagione, implica la conoscenza di tutte quelle che sono le regole contrattuali di tutte le categorie del teatro. Quindi non ti puoi esimere, cioè non puoi uscire da quello che è il contratto. E quindi quello che vale per l'orchestra non è detto che valga per il coro. Quello che vale per il coro non è detto che valga per i tecnici. Giuliano, setta, ma qual è una delle problematiche che spesso si trova nei vostri uffici da risolvere? Quali sono gli aspetti un po' più complessi che spesso dovete risolvere? Ma sì, diciamo la creazione dell'alchimia che rende possibile tutto questo. Quindi comunque il mettere insieme tutte le diverse tipologie appunto di contratti, di prestazioni, di possibilità per ottenere una cosa che è una prova oppure uno degli eventi inerenti allo spettacolo. Spesso i registi fanno le bizze o le bizze le fate solo voi? Le bizze le facciamo sempre noi, ma ci sono registi come Francesco Esposito, se ne ricorda qualcuno, faccio un nome a caso, sono abbastanza difficili da accontentare. Esigenti, diciamo. No, difficili da accontentare. Manderemo dissociandoci questa intervista lo stesso in linea, ma ti dissociamo volentieri. Mi stia bene. La ringrazio Giuliano, a prestissimo. La simpatia unita alla professionalità è una bellissima vavola di sfogo per tutti noi. Grazie Giuliano, a presto. Grazie a lei.